Ho visto che tutti quanti avete dato il meglio di voi stessi, non solo i ragazzi di Paduri che conosco uno per uno, ma anche tutti gli altri ragazzi. Ho notato che Cervinara ha fatto cappotto, o mi sbaglio, ha vinto sia la categoria Pulcini e sia Esordienti, è vero? Come? Ah, pure i primi calci, quindi proprio cappotto, cappotto. Vabbè, si vede che venite da una brava scuola calcio e siete anche in tanti, ma pure gli altri ho visto che non hanno demeritato. Comunque, quando si vince, onore ai vincitori e complimenti. Poi ragazzi di Cervinara, pure io sono di Cervinara, io sto a Paduri da tanti anni, ma sono di Cervinara e sono pareti a Giuliano che stanno in mezzo a voi.